Sicurezza sui laghi Maggiore d'Orta e di Mergozzo, riunione in prefettura con tutte le parti interessate in apertura di stagione turistica. Invito i comuni riveraschi a valutare l'opportunità di stipulare apposite convenzioni con il comando provinciale dei vigili del fuoco o altri enti per la tutela dei bagnanti, come negli anni scorsi. Non ha nascosto alcune riserve il comune di Stresa, che vanta un importante afflusso turistico, in particolare è diretto alle isole Borromee. I dubbi espressi dal primo cittadino Bottini riguardano un servizio dei vigili del fuoco che viene garantito solo per alcune ore il sabato e la domenica, mentre l'afflusso turistico stresiano in estate è molto importante durante tutto l'arco della settimana. Il prefetto Lita, richiamando l'attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza di turisti e residenti che frequentano i nostri laghi, assicurato tramite il coordinamento di tutte le forze di polizia e vigilanza presenti, i necessari servizi di ordine e sicurezza pubblica. La riunione è stata anche l'occasione per sollecitare i comuni comunicare con congruo anticipo alle forze di polizia le manifestazioni programmate per consentire la predisposizione dei previsti servizi di prevenzione e vigilanza. A tale riguardo predisposto un calendario di riunioni del Comitato Provinciale di Ordine di Sicurezza Pubblica per i principali eventi già programmati.